Allora, buongiorno a tutti, buon pomeriggio e buonasera per chi ci raggiunge dall'Italia. Sono molto felice di questo appuntamento di oggi che fa parte della nostra ventitresima edizione della settimana della lingua italiana nel mondo, che come tutti sappiamo è sotto l'alto patronato del nostro Presidente della Repubblica ed è qualcosa a cui teniamo in particolar modo non solo noi come consolato ma anche la nostra magnifica Dante Alighieri del Michigan e siamo molto contenti di poter avere il professor Gualdo oggi qui con noi che fa parte dell'Accademia della Tuscia, dell'Accademia della Crusca e dell'Università della Tuscia uno fa la crasi anche in questa occasione e che ci parlerà dell'italiano, della sostenibilità che è il grande tema di quest'anno non solo per la settimana della lingua ma anche di molte delle altre attività che insieme alla Dante abbiamo fatto e quindi il mio è soltanto un benvenuto e passo la parola alla professoressa Giorgini per una migliore introduzione del professor Gualdo. Grazie. Grazie Allegra. Buonasera a tutti, benvenuti, un enorme piacere vedere tanti facci amiche tante nuove persone. Io sono Silvia, faccio parte ormai da 30 anni della Dante quindi con estremo orgoglio che mi trovo qui oggi a presentare il professor Gualdo che vorrei ringraziare per la sua gentilissima disponibilità e vorrei ringraziare anche se non la vedo adesso la dottoressa Lanzani la quale mi ha fornito il suo contatto e con una velocità incredibile il professore ha consentito a fare questa presentazione e avere un accademico ordinario dell'Accademia della Crusca durante la settimana della lingua italiana signori miei è veramente una delle forze delle soddisfazioni più grandi che come società possiamo avere quindi anche a nome della Dante ma anche a nome personale della Wayne State la vorrei ringraziare ancora di aver accettato questo nostro invito brevemente perché voglio lasciare a lei la parola il professor Gualdo è accademico ordinario dell'Accademia della Crusca ma è stato anche corrispondente, membro corrispondente ed è socio ordinario dell'Associazione per la Storia della Lingua Italiana di cui è stato presidente e è la cattedra all'Università della Tuscia in Linguistica Italiana faremo notte a dire tutte le cose che ha fatto il professor Gualdo e le sue pubblicazioni vi lascio la curiosità di andare a informarvi di tutto quello che ha fatto il professore e adesso lascio a lei la parola per parlarci dell'italiano dell'ambiente e l'italiano nell'ambiente delle lingue sono io a ringraziare la console Allegra Baistrocchi della presentazione dell'invito e la professoressa Silvia Giorgini e anche la vicepresidente della società Dante Alighieri per questa calda e piacevole accoglienza per me è una... veramente sono molto onorato e contento di essere qui con voi mi affiderò con fiducia incondizionata a Erika Catoregli per una breve sintesi in inglese di quello che... delle slide che presenterò per chi non conosca abbastanza bene la lingua italiana spero di parlare lentamente e chiaramente per chi ha qualche... può avere qualche difficoltà d'altra parte siamo nella settimana della lingua italiana nel mondo e quindi mi sembra opportuno usare la nostra lingua dunque italiano dell'ambiente nella prima diapositiva vedete un indice degli argomenti che toccherò nella... in questa presentazione e soprattutto vedete la copertina del volume italiano e sostenibilità che ho curato per la ventitresima settimana della lingua italiana insieme ai colleghi Marco Biffi, accademico della Crusca e Maria Vittoria Dell'Anna che ancora non è accademica ma insomma magari in futuro potrà diventarlo Prima diapositiva L'estate sta finendo è il titolo di un grande... una canzone che ha avuto un grande successo in Italia nell'estate del 1985 quindi molti anni fa dicevamo prima che domenica 8 ottobre ma anche domenica scorsa a Roma la temperatura era di 32 gradi e i giornali hanno intervistato uno degli autori della canzone che ha detto se dovessi scrivere di nuovo il titolo metterei il punto interrogativo L'estate sta finendo perché in effetti questa estate sembra non finire mai nei giornali c'è scritto anche che i Lidi, cioè le spiagge, fanno festa perché per questa estate che non finisce mai ma questa lunga estate non è stata una festa per gli alberi, i boschi italiani in Sardegna, in Sicilia, molti ettari di bosco sono bruciati gli incendi sono spesso provocati da criminali ma certamente l'erba secca e il caldo e le temperature altissime aiutano le fiamme a propagarsi sì, non so se lì, se Erika vuole sì, sono prontissima all right everyone, welcome so we're starting this presentation by remembering and mentioning a very famous Italian song that was popularized in the summer of 1985 that was called L'estate sta finendo or Summer is Almost Over now recently, this past October the singer who brought the song to fame was interviewed and he stated that if he had to rewrite the song nowadays to the title he would add a question mark so is summer actually almost over? because as of right now and as of October 8th so a couple of Sundays ago the temperature in Rome was of 90 degrees Fahrenheit that was the temperature that was recorded the newspapers also are stating that all the beach establishments of the peninsula are rejoicing for this prolonged summer however, this long warm summer has not represented a cause for joy for the Italian vegetation hundreds of acres of forest burned in Sicily and Sardinia and although these fires are almost always started by arsonists a combination of extreme dry temperatures dry bushes and a lack of rain contributed to the extreme wildfires that happened this past summer well, just always in October the Pope has emanated an apostolic exhortation from the title Laudate Deum which takes the most famous enciclical of the 2015 which is called Laudato Si which begins with the words that are drawn from the famous poesies of San Francesco The Cantico of the Creatures La esortazione di Papa Francesco è un potente appello a tutte le donne a tutti gli uomini perché reagiscano alla distruzione cito le sue parole del nostro pianeta sofferente più dell'80% di questo testo è un esame della crisi climatica e quello che è interessante e nuovo da parte del pontefice è che usa tantissime parole della scienza pensate che la parola climatico è ripetuta 28 volte nel testo ma ci sono parole come acidificazione dei mari addirittura permafrost un intero paragrafo è dedicato alla prossima Conference of the Parties che si terrà a Dubai negli Emirati Arabi alla fine di novembre del 23 questo è effettivamente una cosa molto particolare che il Papa sia così interessato e appassionato ai problemi dell'ambiente So this past October or actually during this month of October something else happened beside the interview that we mentioned before and Pope Francis released a plea with the title Laudate Deum praise the Lord which references the title of his most famous encyclical or papal letter that he wrote in 2015 that was called Laudate Si The Pope repurposed the same words that St. Francis used in his Cantico delle Creature which is one of the most ancient poetic writings in the Italian language and all these religious texts represent a powerful invitation to all men and women on earth for them to reach and prevent the destruction of our agonizing planet to quote the words used by the Pope and the Pope exhorts people to attentively analyze the global environmental crisis this encyclical represented a sort of new happening because for the first time and for 80% of the latter the Pope used very scientific jargon in it he used words like carbon monoxide permafrost combustion gases human footprints and for example the word climatic appeared 28 times this is something that has never happened before and it shows how even someone and a figure like Pope Francis is really paying attention to the climatic changes that are happening in the world bene come è stato detto quest'anno il ministero degli esteri della cooperazione internazionale ha scelto di dedicare la ventitresima settimana della lingua italiana al tema della sostenibilità il tema della sostenibilità va affrontato con l'aiuto della lingua che è uno strumento chiave per l'educazione al rispetto dell'ambiente e per la consapevolezza di quello che ognuno di noi può fare per contrastare la crisi climatica l'Accademia della Crusca che è la più antica accademia linguistica del mondo la vedete vedete la foto dell'Accademia alle mie spalle dedica il suo studio all'italiano fin dal 1583 e ha pubblicato questo volume con due importanti novità non solo studi sulla lingua ma anche la sostenibilità nel diritto nell'economia e nella cultura e poi alla fine ci sono due interventi di due artisti che ci propongono come si possa cantare o raccontare la sostenibilità this year the Secretary of Foreign Affairs and International Cooperation decided to dedicate the 23rd edition of the Week of the Italian Language in the World to the topic of the Italian language and sustainability this decision is important because the field of sustainability encompasses the language that we choose to talk about sustainability language is a key tool that can be used to teach how to respect the environment and how to make people aware of the efforts that any individual can take to combat environmental changes through our daily actions the Accademia della Crusca which is the oldest linguistics association in the world and since 1583 has dedicated itself to the study and preservation of the Italian language and has recently published a book entitled Italian and Sustainability to talk about the environment in connection with its most linguistic aspects this new textbook contains two very important new characteristics for the first time alongside linguistic case studies there is researches related to the legal economical and cultural fields and the textbook ends with the songwriter with the testimony of a songwriter and a novelist showing that we can both sing about and narrate about sustainability Maria Vittoria Dell'Anna che con me e con Marco Biffi ha curato questo volume spiega la storia e l'evoluzione dell'aggettivo sostenibile e del nome sostenibilità un momento importante è il 1987 l'anno del Report of the World Commission on Environment and Development Our Common Future conosciuto anche come rapporto Brundtland dal nome della coordinatrice di questa iniziativa Marco Biffi scrive che la definizione di sostenibilità è molto ampia ma che la sostenibilità finisce per essere un po' come la pace del mondo tutti sono d'accordo il problema è come ottenerla Maria Vittoria Dell'Anna who is a colleague of Professor Gualdo in the book does a deep dive in the history and the evolution of the adjective sustainable and the noun sustainability in her opening essay A turning point in how the word sustainable evolved over the years was the report of the World Commission on Environment and Development published in 1987 which is also known as the Brundtland report and Marco Biffi in the book published by the Academia della Crusca writes that a wide definition of sustainability must rely on some precise standards exploiting resources in a balanced way increasing quality of life development that one sacrificed the needs of future generation the concept of sustainability can be compared to the idea of world peace everyone agrees on it but nobody knows how to achieve it bene comincio con citando i versi del nostro più grande poeta cioè Dante che nel purgatorio fa dire al figlio di Federico II che vedete Federico II di Svevia il grande imperatore della prima metà del 200 lo vedete in una miniatura bellissima sulla destra Manfredi è al centro di questa diapositiva e che cosa dice Manfredi a Dante Manfredi era stato scomunicato dai papi però dice la la speranza la bontà divina mi può perdonare se mi se mi pento perché lui si era pentito perché la bontà divina è più forte delle leggi delle istituzioni umane anche delle leggi della chiesa e ha delle braccia così grandi che può accogliere chi si pente finché la speranza a fior del verde che cosa vuol dire Dante con questa parola verde finché la speranza è ancora fresca è ancora verde come un germoglio quindi finché c'è ancora qualche elemento di speranza la parola verde viene usata spesso da Dante nelle sue opere e quasi sempre per indicare un paesaggio per indicare un appunto le piante la bellezza della natura è molto importante lo studio che è stato fatto da uno storico francese Michel Pastureau sulla sugli usi simbolici del colore verde e la RAI ha realizzato a marzo di quest'anno un documentario che si chiama appunto dedicato al colore verde e al suo valore simbolico nel tempo il fatto che il verde sia collegato con la natura ha dato origine anche a dei movimenti politici in difesa dell'ambiente sono stati chiamati verdi gli attivisti che hanno lottato per la difesa dell'ambiente quindi anche la parola verde è diventata una parola della politica in questo slide we can see three lines from Dante's Purgatorio in this scene Dante is conversing with Manfredi who was the son of Emperor Federico II of Zevia Federico II of Zevia Federico was ascomunicated while he was alive and so he should have been in hell because of his discommunication but instead Dante finds him in Purgatory this is because Manfredi tells him that because he deeply repented before dying he was allowed to go to Purgatory instead and this is also because God's love and mercy is endless whether it's human institutions or not and also because as long as there's speranza so as long as there's hope and this hope is green so fresh and new he was able to go to the Purgatory instead and atone for his sins the color green is very important in the Divine Comedy Dante often uses it to describe natural beauty and landscapes and green as a color has this important iconographic and symbolical meaning and there's a French historian whose name is Michel Passeur who wrote about the color green throughout history and throughout art as well and also the rhyme so the Italian broadcasting service dedicated a documentary about the history of the color green that debuted this year and this color green mutated and was also absorbed from a more literal and literary field into a political one because for example in Italy the environmental activist groups took on the name of verdi which means greens to riempire il paesaggio italiano di cemento di costruzioni tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 le parole ambiente ed ecologia diventano delle parole importanti nella lingua italiana perché rappresentano le parole centrali della lotta per la difesa dell'ambiente e un'associazione importante di ambientalisti si chiama appunto Lega Ambiente research the republic aims at the preservation of the natural and historical legacy of our nation the italian historian sabato de sestis wrote that italy was the first country in the world to tie together the preservation of a country's natural beauty with its historical and cultural heritage and in the 50s an association was born called Italia Nostra or Our Italy which was the first association to really talk about the issues that come when people disregard nature and environment around them and in this and there was a harsh criticism of property speculation and what Antonio Cadorna who was part of this association defined as cementificazione which could be translated as concretization and it's a sort of building rush that doesn't consider or respect the environment so building at any cost and between the end of the 1960s and the beginning of the 1970s words like environment and ecology became key words of the Italian environmental activist groups like leg ambiente which still exists nowadays ambiente è una parola antica che deriva dal latino ambience che significa che ci circonda che è intorno a noi ed è stata usata anche da Galileo Galilei ecologia invece è un euro grecismo una parola che non esisteva nella lingua greca antica ma che è stata inventata a metà dell'ottocento da uno zoologo tedesco e che molto presto pochi anni dopo fu tradotta nell'italiano ecologia dalla parola ecologia con un clipping si è preso il prefisso eco per formare nuove parole ne prendo tre eco sostenibile cioè sostenibile per l'ambiente ecosistema di cui parlerò più avanti e una parola interessante che è ecoansia cioè l'ansia prodotta non dall'ambiente ma dalla preoccupazione per la vita degli abitanti della terra una parola che è entrata in italiano nel 2015 e che vedete definita dal Cranbridge Dictionary in questo modo come sinonimo di climate anxiety so the word ambiente in italian is formed on the latin past participle ambience which means what surrounds us something that is around us and it was previously used by scientists like Galileo but it's only in the 20th century that took on its more modern meaning of environment and instead the word ecologia or ecology is Euro-Greek term because it is a word formed by linguistic elements taken by the Greek language but that does not actually belong to ancient Greek the word ecology was invented by a German zoologist in the second half of the 1800 and then it quickly and rapidly spread across all other languages after that from the word ecologia in italian we took the prefix eco and many words have been created from that prefix for example eco sostenibile which means environmentally friendly ecosistema ecosystem and eco ansia which is actually a linguistic borrow from English and it translates to this idea of an anxiety related to the environmental changes and the climate changes that are happening around us in the world in 1972 is scattata la foto che vedete nella slide a sinistra che è stata chiamata blue marble la terra rappresentata come in italiano il pianeta azzurro più tardi l'astronomo statunitense Carl Sagan ha ribattezzato la terra pale blue dot in una foto del 1990 che è quella che vedete in basso che ci fa capire quanto è piccola la terra nel universo in italiano fino a pochi anni fa la terra si chiamava terra e non si chiamava pianeta ricordate anche in altre lingue c'è una famosa serie di documentari girata dallo zoologo famoso zoologo e regista David Attenborough dal 1979 che si chiamava Life on Earth oggi per indicare la terra noi diciamo pianeta e tutti vorremmo che il pianeta fosse più verde perché amiamo le piante e i fiori pianeta verde è un sito molto bello creato da uno studioso di botanica italiano Stefano Mancuso che ha studiato la sensibilità il modo in cui le piante comunicano tra loro nel pianeta che è nostro ma non appartiene soltanto a noi appartiene anche agli altri organismi viventi oltre il 90% dello spazio abitato dalla vita è oceano è mare quindi è azzurro e nell'ottobre scorso a Napoli si è organizzato un bellissimo festival che si chiama Pianeta Mare 2 diretto da Ferdinando Boero uno zoologo un naturalista specialista degli ambienti marini che citerò anche alla fine della mia presentazione dell'ottobre picture on the right was taken in 1990 and it gives you the idea of how really earth is a tiny speck in a endless galaxy and from then on the word earth has been more and more frequently being replaced by the word planet instead for instance up until the 80s there it was still being called earth there's a series of documentaries um by david atborough that is called life on earth um today as we were mentioning we refer to earth more frequently as the planet and we would like for this planet to be greener because we all love plants we all love flowers and um here the professor gueldo mentioned a website um created by stefano mancuso in which um he talks about how plants communicate uh with one another and the beauty of um the our world's flora and um the other interesting thing is and this is why these pictures show a blue planet it's because 90 percent of um the our planet's surface is covered by water and in this past october in naples there was a beautiful festival called um pianeta mare 2 so the sea planet 2 uh directed by fernando buero in which um uh we talked about the life inside oceans and marine life in general because fernando buero is a zoologist who specializes in marine biology nel volume della crusca francesca fusco ha studiato la parola greenwashing che significa interesse per la natura apparente aziende che vogliono presentarsi come ecologicamente responsabili per scopi pubblicitari dicendo che le loro attività sono sostenibili un altro neologismo allora greenwashing è una parola proprio presa letteralmente dall'inglese un altro neologismo recente è ecco bugie che è entrato in italiano nel 2010 in inglese whitewash significa quello che vedete dall'oxford english dictionary cioè qualcosa che serve per nascondere degli errori per dare una apparenza di onestà di rispettabilità nel nostro del vocabolario treccani troviamo tantissime parole formate con il prefisso green sono tutte parole formate con la lingua inglese alcune le ho messe in in evidenza in eretto green zoom green age green revolution eccetera sono tutte parole inglesi non adattate cioè nemmeno tradotte o assimilate alla morfologia italiana sempre nel nostro volume chiara coluccia ha osservato che il 12 per cento delle parole del lessico dell'ambiente dell'ecologia sono inglesi cioè sono parole tutte prese direttamente dall'inglese come carbon footprint climate change sharing mobility eccetera dobbiamo preoccuparci del numero sempre più alto di parole inglesi nella nostra lingua quindi in the book published by the academy della cruz Francesca Fusco talked about greenwashing with greenwashing we refer to a superficial and not sincere effort adopted by especially big companies and institutions that pretend to care about the environment to appear as environmentally aware for advertisement and revenue purposes these companies sustain that their products are sustainable but that is not exactly true and Francesca Fusco discusses this phenomenon in her assay tied to this practice there is a neologism that came about which is ecobugie or eco lies and which first appeared in italian in 2010 now in italian and even in the vocabulario treccani which is one of the most important italian dictionaries there are a lot of pure linguistic loans meaning there are a lot of words created with the prefix green that have not been adapted in italian have not been translated but are simply reported as they are for instance green zone green job green nature green revolution and Chiara Coluccia in the in the book that we've been talking about mentioned that 12% of all of the jargon related to the environment is taken directly from English with any type of translation so once again we are applying linguistic loans from English to Italian and with words like carbon footprint climate change sharing mobility should we be concerned about all of these loans that are being injected into the Italian language now we are going to talk about the language in the environment and I will talk about the words of Claudio Marazzini President Emeritus of the Academy of Crusca Academy of Crusades who wrote a very interesting story about the use of the word ecology also for languages in the world there are 7000 languages and almost 40% of these languages are at risk of extinction the language the most spoken in the world as native languages are in the first place the Chinese and Mandarin in the second place the Spanish and in the third place the Spanish and in the third place the English the Italian occupies the number 23 between the languages is very far from the Portuguese and French but a little bit before the French but a little bit before the Romanian the Italian language is the fourth language the most studied in the world, not exactly, it is the fourth language a little bit after the first place is the English and the English and the Chinese this time the English is the first place and then the third place the Spanish but the Italian is the fourth place, which is when I choose, if I choose, if I choose a person who doesn't know an Italian language, the fourth language's most chosen is the Italian fuori d'Italia ci sono circa 2 milioni di persone che studiano l'italiano, l'italiano è parlato come lingua nativa da circa 65 milioni di persone e quindi non è una lingua che si può considerare a rischio, endangered language, però Marazzini segnala che una lingua non è un oggetto misurabile dai numeri ma è una realtà complessa fatta di un patrimonio di testi scritti, di memoria orale, di legami tra parole e cose, tra frasi e gesti, è un patrimonio immateriale profondamente presente nella coscienza di chi lo possiede e questo patrimonio va curato, va difeso. I'm going to summarize the word of Claudio Marazzini who is the president of Accademia della Crustia because he talks about the word ecology applied in the linguistic field. In the world there are about 7000 languages spoken across the continent and 40% of these languages is actually could undergo extinction, so they could be endangered. A hundred per, sorry, a hundred of these, among the 100 most spoken languages in the world are used by 90% of the world population because in terms of numbers and native speakers, the languages are ranked as follows, Mandarin Chinese, Spanish and then English. Italian occupies the number 23 on this list and falls quite far behind both French and Portuguese, although it appears before Romanian. So as far as the Roman languages go, it's still down the chart. There is this common belief that Italian is the fourth most studied language in the world, but this is not exactly accurate because the Italian is the fourth choice after people's native language. And as of right now in the world there are 2 million people that are studying Italian or study Italian and Italian has 65 million native speakers. So although Italian is not an endangered language, we cannot disregard the fact that continuing to inject it with all these linguistic loans could potentially represent a threat for Italian because languages are not something that can be calculated with mathematical equations, but languages are a very complex reality made up both spoken and written words. Prima ha parlato della legge nella Costituzione e dell'articolo 9. Il 22 febbraio del 2022, quindi poco più di un anno fa, quasi due anni, circa due anni fa, il testo dell'articolo 9 è stato modificato e si è aggiunto a questa questa frase. La Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. È entrata quindi nella Costituzione italiana nei primi dodici articoli, che sono gli articoli più importanti, la parola ecosistema e soprattutto è stata usata al plurale perché la natura è un sistema complesso, quindi gli ecosistemi sono molti in tutto il territorio. Ma è importante anche la difesa del diritto della natura. Nel 2008 nella Costituzione dell'Equador si è sancito il diritto della naturalezza, cioè il diritto proprio della natura e forse questo è importante perché dobbiamo difendere la natura anche attraverso le leggi e questo è un problema anche linguistico, come spiegherò nelle prossime diapositive. In 2001, the article that we mentioned before, Article 9 of the Italian Constitution, was actually amended to include the words environment and ecosystem used in the plural form because the Constitution, because the Constitution wanted to look at the Constitution in their entirety, in their plurality, because they represent such a diverse reality. and as a matter of fact, words like biodiversity and as a matter of fact, words like biodiversity also emerged in this article and in the past one years, there's been a generalized sensibilization on the part of the part of the part of governments and people to include these ideas and these principles to try and protect what surrounds us and nature into laws. For example, in the Constitution of Ecuador from 2008, for the first time we talked about nature's rights, so how we can defend nature. Dunque, si parla nella linguistica, nella linguistica delle società dell'impronta linguistica, della linguistic language footprint. Vedete che il simbolo che è nella diapositiva dell'immagine a sinistra degli studi sull'impronta linguistica, che è spiegata come vedete nella diapositiva, cioè è l'effetto che produce una lingua dominante sulle lingue di minoranza. Il simbolo è molto simile a quello che era stato usato molti anni prima a proposito dell'impronta ecologica, cioè almeno dal 1996 si parla della footprint, cioè l'impronta che l'attività umana lascia sull'ambiente. In passato, invece di impronta, nella lingua italiana si è parlato di impatto ambientale, cioè l'impatto che l'uomo ha sull'ambiente. Per quanto riguarda l'impronta linguistica, la terma linguistica è stata più adattata in linguistica. Per quanto riguarda l'impronta linguistica, quando voglio parlare di un'impronta linguistica, la forma che la più spostata è una lingua più spostata, o più spostata linguistica, o più spostata linguistica, o più spostata linguistica, o più spostata linguistica. Se guardate le due fliare che sono state, la loro spostata sono quasi identica. Quindi, la loro spostata è questa comparazione tra l'anguistica e la carbonia che vivono in cui vivono in cui vivono in cui vivono in cui vivono, la loro spostata è stata una cosa in cui vivono 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 in cui vivono. mi va arrivano immer Confederacy raccontando le attività umani nel mondo Vedete nella Diepositiva questa foto. L'italiano ha una grande impronta linguistica all'estero attraverso gli italianismi. Nella della diepositiva ne cito uno che forse non piace molto perché è associato alla criminalità, alla mafia. Ma ci sono gli italianismi della musica, gli italianismi del cibo e gli italianismi dell'arte. La foto che vedete nella diapositiva è stata presa a Roma, forse non si vede molto bene, a sinistra c'è un chiosco dove compaiono delle parole latine, perché ancora in Italia e soprattutto a Roma il latino ha lasciato una forte impronta linguistica che possiamo chiamare anche impronta semiotica, perché è l'impronta che le lingue lasciano nell'ambiente attraverso i segni, attraverso le scritte e attraverso anche i suoni che si ascoltano. Naturalmente sull'autobus che vedete, sul pullman, le scritte sono in inglese perché è un autobus destinato ai turisti che visitano la città, però è interessante perché in un ambiente linguistico dove la lingua dominante è l'italiano, lo spazio, l'impronta semiotica e linguistica della lingua inglese è molto forte. La lingua inglese è molto storia in cui è un'italiano, l'impronta limitazione, l'impronta, l'impronta dell'impronta, l'impronta della lingua inglese, l'impronta dell'impronta della lingua inglese. But at the same time, in Italy, where Italian is the predominant language, there's this very strong language footprint created by English, for example. And this can also be seen not only in the spoken language, but in what could be defined as a semiotic footprint. So all of the signs that surround us when it comes to murals, signs and things of that nature. That has a great international prestige. And then Claudio Marazzini, in his article, tells us that in the European Union, in the European Union, the treaty of 1958, the treaty of all the official languages. Invece, this equilibrium is eroded by English, which has assumed a primary function in the language of the bureaucracy. Marazzini cita anche un sondaggio della studiosa Rosemary Salomone, che parla appunto della crescita dell'inglese e della politica linguistica globale, un sondaggio che dice che soltanto il 59% degli italiani intervistati ritiene che è molto importante sapere la lingua nazionale per essere italiani. E questa percentuale è molto più bassa di quella che ha risposto positivamente in Olanda e in Francia. Quindi c'è una preoccupazione sull'interesse e l'amore degli italiani verso la loro lingua. So, there's a picture on this slide that showcases a artisanal gelato shop in Rome that it says gelateria artigianale, but it's called the gelatis with this fake English word on it. This is to show how English is considered this prestigious language that can help with your status quo and how much attention Italians dedicate to the English language. So, Kadya Marazzini then comments on how we should be careful about this phenomenon because we should be aware of the balance among all of the languages spoken in the European Union and how this balance is being eroded by the English language, which has taken over a key role in bureaucracy and so this language is permeating in all other aspects of our language. And there was a survey conducted by Rosemary Salamone in 2016 that shows how only 59% of Italian people consider truly knowing Italian, so knowing their own native language as important for feeling and considering themselves as Italian. This is a pretty abysmal number if compared to the 84% that was registered in the Netherlands and 77% in France. So, it looks like in other countries in the European Union, there's still a bigger sense of pride in their national languages compared to what the Italians responded. Molto brevemente ricordo che Marazzini parla di discriminazione linguistica perché l'italiano, sono i punti 1, 2 e 3 nella diapositiva, l'italiano è stato sostituito dall'inglese nelle domande per i finanziamenti di interesse nazionale delle università. La didattica universitaria è affidata sempre più spesso all'inglese e nella ricerca ottengono più punti e quindi più soldi di studi scritti in lingua inglese. And Marazzini talks about how this phenomenon is quite concerning because it's also affecting our education system. For instance, there's more attention dedicated to requests for financing when these requests are done in English rather than in Italian. Our pedagogy is favoring English over Italian itself and also thesis or essays written in English tend to receive more money and more attention than the ones written in Italian. L'Accademia della Crusca cerca di contrastare questo fenomeno proponendo delle traduzioni di parole inglesi con degli equivalenti italiani. Questo è stato fatto qualche anno fa proprio per le parole dell'energia con l'iniziativa che si chiama L'energia parla italiano. Nella diapositiva vedete alcune proposte di soluzione delle parole inglesi, degli anglicismi integrali, dei prestiti integrali con delle parole italiane. L'Accademia della Crusca ha cercato di combattere questo processo di cannibalizzazione che sta succedendo nell'italiano adattare o tradizionare le parole inglese in l'italiano per esempio qui abbiamo casa intelligente, impronta di carbone, lavoro verde e mobilità sostenibile. Alla fine del volume ci sono, come ho detto all'inizio, due interventi di un cantante, Lorenzo Baglioni, e di uno scrittore, Antonio Disi. Lorenzo Baglioni ha scritto una canzone che potete ascoltare anche in rete che racconta la storia di una tartaruga e del re Gilattine. Il re Gilattine è quella plastica, il plastic ring can holder, credo che si dica in inglese, che serve per tenere le lattine di qualche bevanda e questa poesia, questa canzone, parla di questa tartaruga che è stata intrappolata dentro un re Gilattine ma comunque è riuscita a sopravvivere. Il re Gilattine fa parte dei rifiuti che noi lasciamo nel mare. Nei suoi racconti Antonio Disi scrive dei testi che servono per rendere i lettori, le lettrici, consapevoli dei problemi dell'ambiente per esempio scherzando sulle parole o sui titoli delle favole. C'era un volt, quindi invece di c'era una volta c'era un volt che è l'unità di misura dell'elettricità oppure la favola Hansel e Greta Thunberg giocando sul nome della famosa attivista svedese per la rifiuta dell'ambiente. At the end of the book there's the intervention of an Italian songwriter, Lorenzo Baglioni and of an Italian novelist, Antonio Disi that tried to make a bit of light-hearted humor about the situation of the environmental crisis in the world. For example, Lorenzo Baglioni wrote this song that can be listened to online that is called The Turtle and the Klingwrap or The Plastic Ring Can Holder. And Antonio Disi instead took inspiration from very famous titles of fables or other novels and changed them into something to talk about the environment. For example, instead of Hansel and Greta he wrote about Hansel and Greta Thunberg or the one that made me laugh was Ode al Contatore Rante which is translatable as Ode to a Wandering Meter. Nella conclusione noi abbiamo citato le parole di un zoologo statunitense Kenneth Catania che probabilmente dal cognome non è di origine polacca o irlandese direi che è un italo-americano che ha studiato i topi ragni che i toporagni che si credo che si dicano in inglese che sono dei piccolissimi mammiferi che somigliano ai mammiferi che vivevano insieme ai dinosauri nel Giurassico. Catania scrive noi pensiamo che questi mammiferi fossero molto primitivi ma è che pensiamo che fossero la Ford Modello T del Giurassico ma probabilmente erano le Ferrari dei loro tempi perché erano molto intelligenti per quella specie e che hanno sviluppato i mammiferi in tutto, hanno occupato tutto il pianeta dopo che sono scomparsi i fastidiosi dinosauri. Il pianeta Terra ha già sostenuto cinque grandi estinzioni di massa forse potrà sostenerne una sesta e noi che ci definiamo i mammiferi superiori il sapiens forse verremo sostituiti da altri animali quando saranno scomparsi quei fastidiosi esseri umani. So the book concludes with a reflection on something that the zoologist Tannis Catania who wrote about shrews who used to live in North America during the Jurassic time period because commonly humans have considered these animals as primitive and underdeveloped however Catania shows how they are actually comparable to a Ferrari car because they continue to thrive and spread well after the dinosaurs were extinguished and were not roaming the earth anymore. So we might want to be careful because as the earth has already undergone through five mass extinctions including the dinosaurs this could mean that we could be headed towards a sixth one and maybe this time who will disappear are these presumptuous mammals us. here you see a possible image of the future in a vignette if there were a nuclear nuclear the species sapiens would be the only stupid to have provocated and unfortunately this vignette is very current yeah I don't think I mean I think people can read it in sintesi per concludere gli articoli dei vari autori che cito soltanto qui sono dedicati alle strategie per comunicare i temi della sostenibilità in modo efficace tenendo conto delle competenze linguistiche dei parlanti nella divulgazione nei programmi radio e televisivi nei libri di scuola e nella pubblicità e in conclusione per fare una vera conversione ecologica ci vuole una comunicazione e una lingua efficace semplice onesta direi pulita per usare un aggettivo che andava di moda prima di sostenibile energia pulita mare pulito natura pulita grazie ho concluso con questo grazie 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 a lei vuoi riassumere l'ultima slide brevissimente the whole book is dedicated to how we can talk about the environment using the Italian language so being not only aware of the environment how to take care of the environment but also how we can talk about it by taking care of the Italian language and share it and using it in a way that it's efficient and smart fantastico erica grazie grazie se ci sono domande magari possiamo incominciare a scriverle nel nella nostra chat così possiamo fare delle domande al professore o se qualcuno vuole intervenire direttamente basta che faccia un segno ecco tonino va bene un attimo che ti faccio vai tonino apri il microfono il microfono tonino tonino non ti sentiamo il microfono tonino lì a poi poi a mutare provando daniela ci sto provando ma sembra che non quella quella è una buona domanda come si dice a mute in italiano semmai non facciamo testo perché noi siamo it anglish sì allora una mostruosità noi diciamo microfonare semmai no cioè accendere e spegnere il microfono quindi microfonare diretti era una battuta sì sì certo lo sento dire unmute ma in italiano non si può mutare no no tonino non ti sentiamo purtroppo devi aprire il microfono vedi su in basso a sinistra clicca sul microfono nell'angolo in basso a sinistra ecco qua vai tonino va beh allora professore volevo dirvi che io mi chiamo tonino corsetti in Italia ho fatto il vicio classico ma poi ho fatto l'università a Pisa poi sono venuto negli Stati Uniti e ho finito i miei studi qui ora che sono in pensione torno in Italia quasi tutti gli anni ed ogni volta che torno veramente mi preoccupo della fine che sta facendo l'italiano specialmente la gente che crede di essere colta e usa parole inglesi a strafaggio però se come dice lei si stanno preoccupando cosa stanno facendo per almeno insegnare la lingua inglese insegnarla bene perché fa pietà sentire un ragazzo che ha studiato 4-5 anni la lingua inglese non lo so cosa stanno facendo cosa fa il ministero dell'edituzione cosa fa per insegnare la lingua come si deve specialmente l'inglese che tutti volevano parlare e nessuno sa parlare sì io credo che quello che che sta cambiando la domanda è interessante perché si fa secondo me si fa poco in generale per insegnare le lingue straniere quello che sta cambiando molto e direi soprattutto grazie alla rete è la consapevolezza da parte dei delle studentesse degli studenti che è importante usarla la lingua cioè non imparare soltanto la grammatica la teoria io sono un grande difensore della grammatica però non basta la grammatica bisogna usare la lingua cioè viverla e quindi questo lo stanno imparando i ragazzi le ragazze soprattutto grazie alla rete perché seguono le serie televisive parlano hanno la possibilità di fare conversazione con i loro coetanei madrelingua inglesi e quindi le istituzioni fanno poco ma per fortuna per fortuna le persone si organizzano creativamente per imparare meglio le lingue però la però le istituzioni stanno facendo poco secondo me anche per insegnare bene l'inglese no perché io io qui quando vengo in Italia incontro molti ragazzi tedeschi norvegesi svedesi che parlano l'inglese magnificamente sì è vero a volte è difficile distinguere uno che che sia nativo americano o da uno che che viene da un paese un paese scandinavo è vero è vero uno svedesi e gli svedesi parlano perfettamente sì in Italia è ancora un sistema molto basato sulla sull'apprendimento grammaticale e poco sull'uso reale della lingua e questo secondo me le generazioni più giovani stanno risolvendo il problema attraverso un uso intensivo della rete e secondo me sta migliorando molto la situazione però bisogna vedere fra qualche anno ho letto qualche anno qualche mese fa quando la nuova amministrazione venne al potere che credo che fosse il ministro della pubblica istruzione aveva suggerito di 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 multare le persone che in Italia usassero una lingua una parola stranile invece di usare una italiana questo se ne è fatto oltre al fatto che la gente sta ancora ridendo allora allora è una proposta di legge che è una proposta di legge che ancora non è andata avanti per quello che ne so per fortuna perché è stata fatta anche dicendo delle sciocchezze dal punto di vista linguistico insomma parte l'idea della multa che è assurda perché non si non si risolve il problema della dell'anglicizzazione attraverso le multe quello che però è una cosa seria secondo me è quello che dice Marazzini che scrive Marazzini cioè ci sono diciamo l'italiano istituzionale dovrebbe mantenersi in italiano cioè dovrebbe evitare l'uso delle parole l'italiano delle leggi l'italiano delle norme deve rimanere italiano cioè non può diventare una lingua ibrida con parole inglesi ma non per non per difesa dell'identità perché è incomprensibile per gli stessi italiani oltre al fatto che ci sono tanti errori anche cioè sono usate le parole a sproposito le parole inglesi ma soprattutto è sbagliato che le istituzioni parlino con una lingua mista e invece è giusto che ci sia un controllo della scrittura il problema è che deve essere anche l'italiano deve essere buono non basta che sia buono l'inglese deve essere un italiano chiaro cioè se poi si scrive un italiano assurdo burocratico allora tanto vale usare l'inglese per esempio a me dà fastidio parecchio quando sento alla televisione the budget o ma mi viene una rabbia e molti miei amici americani si sentono allo stesso modo hanno la stessa reazione ma perché usare una parola inglese che poi di solito non viene pronunciata correttamente sì però questo è vero è vero però è vero anche per le lingue in altri paesi per esempio in Germania si usano tantissime parole inglesi e anche lì sono pronunciate male per esempio il loro budget lo pronunciano bagi i tedeschi i tedeschi lo pronunciano alla francese cioè lo chiamano bagi quindi ce ne sono tante anche in Germania però loro studiano meglio l'inglese quindi normalmente parlano un inglese migliore grazie Tonino abbiamo delle osservazioni da Miro Marcelli sì ah no niente l'ho scritto era semplicemente portare la mia esperienza la ragione per cui i paesi scandinavi in particolare in Svezia parlano così bene l'inglese come fosse la prima lingua è che almeno per la mia generazione è che i loro film non sono doppiati e quindi sin da sin da bimbi si abituano all'inglese come una seconda lingua quindi anche andare dal panettiere parlano l'inglese meglio di me che ho studiato dieci anni sì questo è vero infatti io quello che volevo dire è che molti forse i bambini no i bambini più piccoli non lo so ma molti giovani adolescenti hanno cominciato a seguire film le serie televisive direttamente in inglese senza il doppiaggio in Italia e questo abitua tantissimo all'ascolto e la pronuncia migliora moltissimo la pronuncia e soprattutto come ha detto lei professore aiuta tantissimo anche ad imparare la lingua nel contesto e non solo a livello grammaticale ma proprio come viene usata soprattutto per gli scambi giornalieri perlomeno sì sì è vero è vero cioè non è soltanto la lingua letteraria oppure la lingua scritta no ma è la lingua parlata tutti i giorni sì sì questo è verissimo ecco eh credo che abbiate anche letto diciamo osservazione della dottoressa Le Carabai-Strocchi a riguardo del che scopre oggi che siamo stati il primo paese ad inserire la tutela dell'ambiente nella nostra costituzione però aggiunge che siamo anche stati i primi ad inserire lo studio del cambiamento climatico e la sostenibilità nell'insegnamento scolastico ad ogni livello di studio dalle elementari in su sì questo è giustissimo cioè c'è un aumento incredibile negli ultimi vent'anni della consapevolezza ambientale soprattutto tra i più piccoli la cosiddetta generazione Z che sono i ragazzi che hanno dieci dodici anni ragazzi le ragazze che hanno dieci dodici anni hanno una fortissima consapevolezza ambientale anche grazie alle ai cambiamenti che ci sono stati nell'insegnamento scolastico è molto importante sicuramente molto importante tra le altre cose professore se vuole ricordare del del libro che è stato messo a disposizione per in occasione della settimana della lingua sì il libro è scaricabile ancora per per poco tempo quindi sbrigatevi per un'oretta è qualcosa insomma perché fino alle 24 italiane quindi alle mezzanotte di stasera qui ormai sono le 10 e 40 si può scaricare forse vi ho messo il link c'è il link nella nella sì diciamo che il messaggio nella chat numero 1 c'è il link sì potete trovare questo link e diffondetelo perché è scaricabile gratuitamente mentre da domani si potrà sempre scaricare ma a pagamento non costa molto però tanto vale visto che ci siamo scaricarlo gratis grazie a voi grazie a lei professoressa e moltissimo a Erika che è stata bravissima nella traduzione grazie grazie mille e buona settimana della lingua a tutti grazie